Una nuova forma, dei nuovi colori e soprattutto una connessione super veloce. Con il tradizionale Keynote da copertino, attesissimo dagli amanti del mondo Apple, la di Tim Cook ha svelato il nuovo iPhone 12. Sono in tutto quattro i modelli della gamma dello smartphone di nuova generazione. Si va dal più piccolo, il mini, fino allo standard e a due versioni Pro. La più grande novità l'ha annunciata direttamente Tim Cook. Oggi portiamo l'iPhone nel 5G, è un grande momento per tutti noi e siamo davvero entusiasti. Il 5G porterà i download a un nuovo livello di performance, un'altissima qualità di video streaming, giochi più reattivi, una interattività real-time e molto altro ancora, ha annunciato. Tra le novità, uno smartphone più squadrato rispetto all'ultimo modello, schermi in ceramica frontale, quattro volte più resistente alle cadute, telefono waterproof fino a 6 metri di profondità per 30 minuti. 5 i colori, nero, blu, verde, rosso e bianco. Il nuovo iPhone 12 è l'11% più sottile, il 15% più piccolo e il 16% più leggero rispetto all'iPhone 11. I modelli iPhone 12 Pro sono invece dotati di nuovi schermi Super Retina XDR, che sono i più grandi mai realizzati per iPhone. A livello software, il nuovo smartphone ha uno scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata e garantisce una ricarica wireless ad alta potenza. Il night mode funziona ora anche nell'ultra grandangolare e con la selfie camera. Le due fotocamere sono da 12 megapixel. Quanto ai prezzi, l'iPhone 12 standard parte da 939 euro fino a 1109 euro per il modello da 256 gigabyte. Per il mini si parte da 839 euro per il modello da 64 giga e si sale fino a 1.009 euro per quello da 256 gigabyte. Per il mini si parte da 6 gigabyte.